Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo. Come dico sempre sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere una visione più completa potete anche ascoltare il vostro ascendente e il vostro segno lunare. In descrizione, oltre alla mia email, trovate anche il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. Bene. Mostrami gemelli, tendenze, grazie. Abbiamo la morte. Cari amici dei gemelli, si prospetta quello che è un periodo di trasformazione. Può essere un cambiamento all'interno della relazione, nel caso già siate in coppia, oppure potrebbe anche essere semplicemente un cambiamento interno, nel caso voi non abbiate nessuno. Andiamo a vedere con gli angeli del cuore che cosa vi dicono in apertura. una carta per piacere, grazie per gli amici dei gemelli. Wow. Vediamo un po'. Matrimonio. Questa situazione include il matrimonio, quindi può essere che per qualcuno appunto si parli già di quello che è una coppia ben formata, ben consolidata. Bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini, quindi può essere che ci sia un qualche tipo di famiglia in ballo, qui diciamo che si stia parlando di qualche famiglia, oppure un altro risvolto di come io vedo questa carta è del fatto che ci sia stata, quando voi eravate bambini, un qualche tipo di situazione che vi abbia influenzato. Poi abbiamo luna di miele, godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza, è un po' come se vi dicesse ok ricordati quelli che sono stati bei tempi, diciamo così, mette l'accento su quello che è il lato positivo della vostra relazione e poi qui parla di fai uno sforzo. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che vengono indicati, quindi qui probabilmente c'è una situazione, diciamo, mi spiace che le carte sembrano che stiano sul mare o piene di onde, non riesco a farle star dritte. Sembra che ci sia qui una situazione di coppia in ballo dove magari ci sono anche dei bambini e dove bisogna fare uno sforzo per mandare avanti le cose perché probabilmente non siete in una situazione, diciamo così, in un momento di questa relazione molto felice, così sembrerebbe. Ma adesso andiamo a vedere con i tarocchi e infatti avrebbe anche senso la morte perché la morte parla di cambiamento, di trasformazione. Andiamo a vedere. abbiamo un re di bastoni, la carta del matto, quindi il re di bastoni qui potrebbe fare riferimento al vostro partner, alla vostra partner, a una persona che magari recentemente è entrata nella vostra vita, nel caso non abbiate nessuno. E il matto parla invece di quello che è una sorta di, se vogliamo, impulsività. Per qualcuno fa riferimento ai figli come avevamo già qui visto con gli oracoli degli angeli, però sento che c'è la necessità perché il matto è un arcano numero zero, è una carta che dà l'accento su quello che è la chiusura di un ciclo e ricordiamoci che qui avete la morte, quindi la morte parla proprio di quello, di chiudere un ciclo, di tagliare quello che non serve più per ricominciare una nuova fase della vostra vita. Sento che c'è qualcuno che avrebbe voglia di quello che è un compromesso, potrebbe anche essere l'andare a convivere, potrebbe anche parlarmi di quello che un ufficializzare, un qualche tipo, anche se sento che potrebbe già essere ufficializzata visto che abbiamo la carta del matrimonio. Però comunque si parla del fatto di aver voglia di quello che è un legame felice, un incontro se vogliamo, si ha voglia di innamorarsi di nuovo per certi versi. Il sei di spade, è caduta una carta alla recupero, il sei di bastoni, scusate, parla di quello che è una vostra sensazione, se vogliamo, di sei di bastoni è la carta del successo, è la carta del riconoscimento. In questo momento quello che non sentite è il riconoscimento esterno, potrebbe anche essere da parte di questo re di bastoni, nel caso rappresentasse la vostra persona di interesse o la persona che, diciamo, fa parte di quest'altra coppia. Il sette di denari parla di quello che è una attesa, un aver comunque già seminato determinati frutti, parla di aver già fatto un qualche tipo di lavoro e adesso insomma si è in quella fase di attesa, è un po' come se steste osservando che tipo di risvolti potrebbero esserci o come vanno le cose. Diciamo che in un certo senso sarà la vostra energia, la vostra prossima mossa sarà non fare niente, nel senso sarà proprio fare questo lavoro di osservazione. Abbiamo anche una regina di spade, potrebbe essere la vostra energia, potrebbe essere un'energia che entra o più semplicemente esprimere il fatto che abbiate preso coscienza di quello che bisogna tagliare, che è anche un po' quello che dice la morte. La morte arriva in questo mazzo di tarocchi a una falce, quindi la morte arriva proprio per tagliare quello che non serve più ed è un po' anche l'energia della regina di spade, è una persona che sa il fatto suo, sa come arrivare ai propri obiettivi e sa che non ci devono essere ripensamenti o reticenze quando è necessario fare dei tagli. Parla anche di organizzazione mentale, parla di chiarezza, abbiamo anche poi un 9 di pentacoli e il cavaliere di spade, quindi la stesa finisce con quello che è una vostra determinazione nel raggiungere la vostra indipendenza, nel raggiungere la vostra autonomia, la vostra stabilità e anche nel godervi quello che magari avete già insomma. Bene, andiamo a spiegare le carte una per una, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico, ok? Allora spiegatemi il re di bastoni per piacere, grazie. Abbiamo un fante di pentacoli e un asso di spade. Allora, sento che qui c'è qualcuno che per certi versi ha dato tutto a questo re di bastoni, il fante potrebbe fare riferimento dei figli per qualcuno, ma sento che comunque c'è anche un asso di spade, quindi o è questa persona, questa situazione che bisogna lasciare indietro, come vi dicevo anche qui, ok? O come dice la morte. O c'è una sorta di, come vi posso dire, bramosia, una sorta di attaccamento, una sorta di idolatrazione nei confronti di questo re di bastoni. È un po' come se deste tanto, deste troppa energia questo re di bastoni, o aveste dato. Andiamo a vedere il matto di che cosa mi parla, per piacere, grazie. Allora, abbiamo la carta della luna e un altro cavaliere di spade che era già uscito anche qui. Quindi in questo momento può darsi che stiate facendo un pochettino i conti con quello che sono le paure del passato. Si ha, come dicevo, voglia di andare verso nuovi orizzonti, di andare, diciamo così, verso nuove avventure, ma si sta vivendo ancora un po' troppo, ripeto, in quello che sono le ombre, se vogliamo, del passato. Fate attenzione perché la luna parla anche di quelle che sono le vostre proiezioni. Può essere su questa persona, può essere sulla relazione o sul matrimonio, su quello che sono i bambini. Si parla comunque di quello che voi state proiettando, di quello che voi vi state aspettando, quindi di quello che voi state creando. Andiamo a vedere, sì, se giro le carte magari è meglio. Andiamo a vedere il 2 di coppe per piacere, grazie. Il sole e il 7 di coppe. Sì, per qualcuno fa riferimento ai figli, anche questa carta, la vita amorosa viene influenzata dai bambini, può anche essere che mi parlano di qualcuno che in questo momento non ha nessuno e che sta cercando qualcuno che, diciamo così, che non ha, tipo che non abbia ancora bambini e che voglia ancora averne o cose di questo genere, come se in questo caso la vostra vita amorosa voi steste selezionando i potenziali partner in base al fatto se vogliono o meno figli. Per qualcuno può anche fare riferimento a questo, ok? Però sì, sento che questa storia del bambino, come vi dicono, come vi dicono le carte in questo momento, potrebbe essere che vi state facendo tenere attaccati a una sorta di idea, ok? Che magari non è poi così reale, che magari è un po' illusoria ed è per quello che anche qui c'è la luna che vi parla di proiezioni. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 6 di bastoni è spiegato dal 3 di coppa al contrario e dalla regina di pentacoli al contrario. Sì, avete bisogno che qualcuno è come se per riconoscere il vostro potere all'interno di questa situazione o di questa relazione, voi avessi bisogno di un riconoscimento esterno, voi avessi bisogno di qualcun altro che vi dia monforte. Vediamo il 7 di pentacoli. È come se avessi bisogno di essere appoggiati in qualche cosa. Wow, il diavolo. Con una carta. Giustamente per spiegare il 7 di pentacoli esce un 7 di pentacoli. Allora, considerato che abbiamo anche il diavolo, sento che qui c'è qualcuno che potenzialmente sta, come vi posso dire, è frenato da qualcun altro. Ok, si sta aspettando i movimenti di un'altra persona che potrebbero essere quelli di questo re di bastoni e la carta del diavolo indica una sorta di blocco, una sorta di energia stantia, una sorta di tossicità. In alcuni casi fa riferimento a quelle che sono anche le manipolazioni, ok? Per qualcuno potrebbe essere questa donna. Non necessariamente sono, come dico sempre, relazioni solo tra uomo e donna. Riguarda la parte affettiva in generale, questo tipo di stesura, quindi potrebbe anche, se voi siete donne potrebbe essere una donna, se voi siete uomini potrebbe essere un uomo con il quale avete questa relazione per farmi capire, ecco. Andiamo a vedere appunto la regina di spade, per piacere, grazie. Wow! Assolutamente la regina di spade parla di quello che è necessario tagliare, ragazzi. Asso di denari, di nuovo il 6 di bastoni, che questa volta è al contrario, un 10 di coppe. È come se le carte qui vi dicessero, devi lasciare indietro, devi far cadere il tuo ego, il tuo egoismo, quello che vuoi tu per te, fondamentalmente, invece che quello che è giusto per tutti, se la vogliamo mettere un po' più in generale. Però comunque c'è da fare questo taglio, c'è da lasciare indietro qualche cosa per far sì che avvenga questo nuovo inizio, questo nuovo percorso, ok? E fondamentalmente per avere una famiglia felice non c'è bisogno che qualcun altro, che una parte esterna, mi parlano di matrimonio, e qui abbiamo anche la carta del matrimonio, come se dicessero, non c'è bisogno di avere quel pezzo di carta, che è un contratto scritto fondamentalmente per sentirsi nel proprio potere personale. All'interno della coppia, intendo, o all'interno di questo tipo di relazione. È come se esistesse, perché l'asso di spade fa anche riferimento a quello che sono le comunicazioni, a quello che è una chiacchierata chiarificatrice, diciamo, no? Quello che può essere una verità che viene alla luce. Quindi sento che c'è un qualche tipo di... anche perché c'è la luna, la luna parla di cose nascoste, parla di delle cose che non si vedono. È come se dopo questo tipo di comunicazione ci fosse un nuovo inizio, ci fosse una sorta di nuova speranza, se vogliamo. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, per piacere e grazie. Allora, il 9 di pentacoli è spiegato dal papa, che parla giusto appunto di ufficializzazioni, del 5 di bastoni, dal re di denari, e qui avevamo la regina di denari. Guardate, sono entrambi al contrario, eh? È il 4 di spade. Quindi, per certi versi, è come se voleste difendere a tutti i costi la vostra idea. Sento che qualcuno ha proprio bisogno di questo riconoscimento esterno dell'ufficializzazione. Ma guardate, in realtà potrebbe anche essere che arrivi, perché comunque avete il papa. Sì, probabilmente non sarà un viaggio semplice, però quello che mi dicono è molla al colpo. È detta così. Allora, potrebbe rappresentare, questa frase che ho sentito, il fatto che, sapete, quando uno ha in testo un obiettivo e vuole raggiungere quell'obiettivo, punta tutto lì. E alle volte sembra che più uno si sforzi per arrivare all'obiettivo, più questo obiettivo si allontani. Quindi il consiglio delle carte, in questo senso, quando dicono molla al colpo, è tirate un attimo i remi in barca, mollate un attimo questa sorta di atteggiamento, questa sorta di... e vedrete che poi le cose prenderanno un altro tipo di piega. Però avete un 4 di spade, quindi è come se vi invitassero a guardare le cose anche da un altro punto di vista. Probabilmente la vostra sensazione di non avere potere non è solo vostra, e anche dell'altra persona, perché il re di pentacoli è capovolto anche qui. È come se ci fosse qualche cosa che impedisse in qualche modo... cioè è come se entrambi all'interno di questa relazione voleste le stesse cose, ma c'è qualche cosa per cui non si riesce ad andare avanti. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, per piacere, grazie. Asso di bastoni e 10 di pentacoli, quindi io direi che la stesa finisce benissimo, perché il cavaliere di spade potrebbe rappresentare una persona nuova che entra nella vostra vita o semplicemente il fatto che diventiate molto più determinati. L'asso di bastoni mi parla di un qualche tipo di azione concreta per riuscire a raggiungere i 10 di denari, ovvero quello che è un appagamento, sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista concreto, magari perché proprio andate a vivere insieme, perché magari c'è questa convivenza, o perché più semplicemente si crea una maggiore stabilità in quello che è il vostro rapporto. È un po' come se tra l'asso di spade e la regina di spade è un po' come se venisse fuori un'energia del tipo ok, ricordiamoci che avete la morte e qui la torre, quindi ok, questo non serve più, via, questo non serve più, via. E vedendo questa carta, di nuovo per il grande amore vale la pena compiere i passi che vengono indicati. Essendoci il diavolo potrebbe essere per qualcuno che ci sia un qualche tipo di dipendenza, che sia sano, lasciare andare questo tipo di atteggiamento, piuttosto che dipendenza, piuttosto che schiavitù, per far sì che le cose comunque migliorino. Io vi dico che alla fine della stesa avete un asso in 10, fine di un ciclo, inizio di qualche cos'altro. Quindi sento che alla fine, insomma, di questo periodo l'energia comunque cambia, ok? Bene, andiamo a vedere un altro messaggio per gli amici dei gemelli. Encore un messaggio per piacere, grazie, da parte di questi oracoli. Wow! Gli anelli di matrimonio, unione, e qui la vedo. Matrimonio, e qui lo vedo, e qui lo vedo. Connessione di anime, e qui lo vedo. Fatemi vedere se c'è qualche cos'altro. Anche qui lo vedo comunque, eh? Anche se il diavolo sempre mi parla magari di anime carmiche, però comunque. Eh, connessione di anime, amore eterno, è una promessa che è per sempre. Guardate, mi viene in mente perché comunque avete, ehm, la carta del diavolo. Non avete carte, no. Non avete carte carmiche o carte di anime gemelle o cose per lo stile. Però potrebbe, visto che qui mi parla di una promessa che è per sempre, potrebbe anche essere che la persona che sta per entrare nella vostra vita se siete single, piuttosto che la persona con la quale siate in questo momento, o abbiate una relazione in questo momento, sia una persona che in realtà abbiate già conosciuto in un'altra vita. È come se foste anime per certi versi predestinate. Quindi, in qualche modo, da qui dovete passare, perché avete il compito e il dovere di insegnare l'uno all'altro un qualche tipo di lezione di vita. Bene, amici dei gemelli, non vi preoccupate perché comunque la stesa finisce bene. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati fino qui con me, cioè con me fino a qui, ok? Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!